AsIE Bella a tutti ragazzi, qui Mr. Patricos217, siamo su Call of Duty MW3 Non sono da solo, lasciamo la parola no non si sente un cazzo non si sente un cazzo va bene ok ce l'ho anche qui ok sto in questa radio o? eh? sto in questa radio o mi abbia? va bene anche questa ma stai già registrando? si ok non mi ricordo neanche le mappe quindi ce ne mi ci viene ok 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 mi delude il tuo hashtag comunque eh no hashtag che c'è? il tal clan sembra messo a cazzo di cane ma infatti l'ho messo a cazzo di cane eh? aspetta ti metto giù parliamo attraverso la play perchè devo andare ah io te la faccio la play non posso perchè dopo non ci sente niente di te allora la faccio sotto io ok 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 qui davanti dai che mi sento che c'è una bella partita eh 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 questo è un senso fatto po allora non si capisce un cazzo stiamo prendendo plates oh ah 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 ho il missile predator si che è? nooo non è vero... non è vero... oh mio dio non è vero... non è vero... oh non mi hanno dato ma allora e non muore dai cazzo non c'è nessuno in sta mappa di merda oh con la testa e muoio non è vero 3 1 mamma mia mi sento mi sento altro che è proprio mi sento realizzato stiamo prendendo Charlie oh mio mio apri che fa 4-1 sto facendo io 5-5 troppo prodo non è vero non è vero no sono un idiota mamma mia che cazzo di partita sto facendo sto facendo mi sento un fututo pro porca sottona non c'è nessuno no porca stoccola non c'è nessun momento di roma no cazzo l'elicottero addirittura eh io al credo fan cura no vedo addirittura bastardo fig bastardo più in culo no perché c'è come tolare di visione efficiente allora bastardo guarda che mi cura l'elicottero ancora porca stoccola no no l'elicottero no l'elicottero no ma non c'è puttana no 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 cazzo l'elicottero no 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 ma dai ci stavo giocando bene ci sto giocando di merda no non no 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 ultimo a provvedere in in stella non non fuori i avversari madonna gioco di merda non cazzo erano 7-12 sto facendo un po' di merdo di merdo troppo qualche porca puttana e da dove cazzo mi ha preso che bravo sto lì sto lì a chiuso grazie al cazzo allora è forte anche giugno giocando da lì porca puttana mort camere pure mort in cure forse contro odio giudice del cazzo non non lo cazzo che still anche un po' no, sta facendo così schifo con qua testo in pieno minchione mi ha assistito eppure lui mi prende ma su che mi ricordo c conquistata questo posto questo posto ancora che il nostro un porto di quella puntata no, ero cosa però, non dico cosa no adesso c'è story boom si idiot non non so faccio quanto mi sto sul cazzo star tiè muori giù non so pure queste addirittura non sono scelto parole I don't... I don't have parole veramente porca zoccola non sono quasi la merda però mi sento che potrò fare almeno un'altra chi ecco lì che si bufa da solo non so 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 voglio fare una dove almeno adesso dove almeno perchè prima non si è sentito quasi un cazzo questo su motley ok vabbè allora andate anche metto io voce ok adesso penso provo a parlare perché non si è sentito niente perchè io voce si sentì basso il microfono non so aspetta che allora alfa il volume ok 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 proviamo 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 allora si 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 proviamo ok se non ci sono solo pistola ok 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 ho detto che sarà un partitone anche questo almeno non c'è non c'è non c'è il gamer strong non c'è non c'è non c'è tessuccio e il cazzo e il cazzo detto me Lucio Paccio che credo ora c'è un tito Cazzo. Cazzo. Porco. Cazzo. Eeeh. C'è invece benissimo. Ma va a fanculo. Mamma mia. 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 Non c'è un prezzo di nessuno. Mamma. Vecchie. io voglio solo uccidervi dai venite fuori voglio solo farvi un po' di fuoco voglio solo farvi... voglio solo uccidervi... eh c'è un po' di fuoco ok forse a poco allora il codice fiscale 7 a 1 m carica ma ancora il codice fiscale fa un culo oppure il giubotto giubotto anche sborrata pure ce l'ho fatto per me non muoiono oh il codice fiscale del cazzo il codice fiscale il codice fiscale eeeh che due maroni sto giocando benissimo ma vaffanculo eppure pure messaggi e rione e ma 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 ho visto ma 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 1 io ho i pacifici non c'è un'epidata ecco pure il mio cane che sono stata bagliere alla cazzo di cana basta bagliare porca zittana allora intanto vorrei capire una cosa ho vaffanculo vincuono anche le uccisioni 9.17 sto facendo non so sto giocando bene sto giocando proprio pene sono un grande sono un grande giocatore no no sono un grande giocatore migrazione del lost no 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 Allora, vorrei sentire, dove cazzo sono? Dove cazzo siete, bastardi? Non si nada, non si nada. Sono running freddo, voi? Non? Non? Non si nada! Vi sono rato, non si vede... Non si trova le regioni? Non si trova in ponderà. Vabbè, l'importante è solo uno po' io, se a uno piace la figa, posso anche giocare bene! Sì, sono l'eccezione però, perché mi piace la figa ma sto giocando da culo, porca puttana! Ecco lì, pure lì in P, almeno la storia è alta! Allora, per modo di dire! Ecco lì pure, andiamo a P, via! Ecco lì, ho ucciso il codice fiscale! Guarda, fa in culo! Un gioco in culi! Sì, perché è quel in culo, lui dice di no però, come se lo sapessimo noi! Guarda, fa in culo! Guarda, fa in culo! Ma che culo ti perdono! Ah, assist! Nove assist ho fatto con culo! Eh! Eh! Beh, non chiedi che bravo! Eh! Certo che c'è anche una nata, sono anch'io fogliono da andarci però! Eh! Ciò non cambia questo gioconiere pure! Beh, devo riuscire ad ammattarlo qui per stare! C'è nessuno! Chi è? C'è nessuno! Chi è? È molto bello! Questo è per il giorno bello! Sì... Che bello! Eh! E şu! Che bello! posto anche un film sto prendendo la profonda del cuore come si è permesso di dimostrare scuola e per gli sensibili ma vaffanculo anche i metafarelli l'italia questo codice fiscale, lo segnalo alla fine della partita maria buongiorno un codice fiscale pure sui miei scuola 21 diciamo Ciao Oh Oh Mi senti? Allora Quando facciamo un'altra? Ah no, gioco delle armi Oh 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 no, gioco delle armi Ah, che bello Sento che sarà una cosa bellissima Allora Sì 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 no ho no ho no 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 mi sono proprio finger pobellini ragazzi dobbiamo ah, mi è inculato così eh no spero faccio lo stronzo no no eh 7-3 sto perdendo 8-3 sto giocando benissimo oh, finalmente un'altra uccisione no 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 mi sta chiamando sentiamo interventi in live di un fan eh, sto facendo la partita con Roma eh, ci sono no eh, però vabbè che non c'è lui ma ci sono ah, lei non c'è perché tra un po' dovrebbe andare sul tifo ah aspetta eh, a che ora a che ora deve andare ok non lo so dovresti sentire lui ha detto che tra un po' dove andare via va bene oh, ah, aggiungi i miei amici va bene faccio dopo, mandami un messaggio perché sono già dimenticato come ti chiami ok ciao ciao finisci la partita poi aggiungimi ok ciao ciao oh ma dai chi è? no no lui lui non muore con un pompa no del mio no dai ahah mamma mia e altro LORD non si vede anche często facampa a 1 alzato strumento stupare a poco quando non questo punto dai 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 alberghi E' un saluto a tutti anche da Mr. Palatrack, ciao! E' un saluto a tutti!